non so mai come iniziare dal video buongiorno siamo partiti da Tumen che è l'ultimo paese della Val di Renese in Val d'Aosta in Italia destinazione sarebbe la becca della traversiera ok, arrivati al rifugio benevolo Filippo si sta facendo il palazzo con la coppa di busto la coppa di busto fa molto è Davide che mangia anche lui non si sa cosa qui sta colando cemento allora adesso la direzione è il lago Goletta questo lago che è a 2700 metri ed è una roba dalle foto è incredibile la strada inizia a farsi un po' più ripidina la frega loppa il gruppo è compatto qua dietro sarà il quarto video che faccio partire colliniamo al lago ma è sempre un pezzo inizio ma è sempre un pezzo inizio adesso devo un attimo guardare la cartina ma la cima dovrebbe essere una di quelle due immagino quella più alta stavo facendo delle foto a questo però Davide ha iniziato a sfogliarsi probabilmente l'ho preso in nudo e si è venuto in alto anche se non ci sono mai stato mi sembra di essere in Irlanda cioè è allusinante ma è buono il grana si spreccia su verso i 3000 siamo a 2009 stiamo salendo il passo che è lì quando c'è il po' di sole ci saranno questo tipo perso un po liquido il freddo sopra i 3.000 la fra non molla niente oh mio dio sto male cioè sto da dio questi secondi valevano tutta la fatica proviamo tutta la salina sulla cigale per vedere attraversi che ma che vola la nostra meta la becca i nostri eroi tre qui e tre non so dove siano l'ultimo tratto continuiamo a fermarci a fare foto perché è incredibile la coppola non si vede neanche ma quello è il monte bianco della marty bianca quel ghiacciaio bianco è nero e bianca è nero e bianca tiriamo su tiriamo su grandi grandi sono cavato un ginocchio con una roccia mamma mia cosa è successo il film aspettate la croce spaziale non so cos'altro dire veramente è il tetto la discesa l'altro le altre sono già giù e a mer ecco 30 metri sono uscite il giro dal ginocchio gradibile fuori c'è appena passato sopra un'aquila reale boh spaventoso c'è no circa un'ora saremo sul tavolo a mangiare eccoci arrivati all'ultimo pezzetto fino al rifugio siamo tutti un po' stanchi sono uscita qualche vescica qualche fiacca poi là ma per tanto tempo che non ero buona la giusta più buona del mondo quella di stasera soprattutto il tortino al cioccolato l'ho appena visto e sto già grande Davide guardi basti basti guardi 2 volte 2 volte 3 volte per secondo adesso vediamo adesso facciamo 3 volte stavolce si con l'aggiunta corretta con l'algine p basto buonissimo buonissimo sempre giovane coppa eeeh il giornale è qualcosa come? il giornale è qualcosa si ha piaciuto ci piace cosa si piaciuto